E' figlio d'arte, è il migliore al mondo, ha vinto Scudetto, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa, è medaglia d'argento ai mondiali di Budapest, gioca con una palla ma non è un calciatore. E' il pallanutista pescarese Francesco Di Fulvio, conclamata superstar delle piscine di Mezzomondo. A 29 anni, Di Fulvio, che gioca in nazionale ed è attaccante della Prorecco, è stato eletto miglior giocatore del mondo nel 2022. Il sondaggio ha coinvolto più di 50 tra allenatori, capitani e giornalisti specializzati nella Total Water Polo Player Awards, praticamente il pallone d'oro della pallanuoto. Già nel 2020, peraltro, Di Fulvio era stato indicato come miglior pallanutista al mondo da una rivista internazionale specializzata. Solo pochi giorni fa è tornato nella sua terra e ha festeggiato il Natale alle Nayadi, nella piscina che conosce e ha menadito insieme ai piccoli nuotatori. Nella classifica della Total Water Polo, Di Fulvio ha totalizzato 117 preferenze, 21 in più dello spagnolo Felipe Perrone e 24 in più del terzo classificato, l'altro iberico Alvaro Granados. Francesco Di Fulvio è dunque come orgoglio pescarese, anzi abruzzese, semplicemente il migliore. A presto!